ok ragazzi ci siamo cominciamo no no vai tranquillo tanto sono solo le 5 e mezza chiaramente un filtro aria sportivo rifacciamo siamo in onda intanto sarà un video lunghissimo io dirò un sacco di strozzate nel frattempo dico anche le cose giuste e poi lo taglieremo ok ragazzi lo stage 2 completo si oltre lo scarico altra chicca prego ok ragazzi dovrei sono scemo basta perdere tempo avevo un po di acido poliestere e in ultimo stava cadendo spero che il video vi sia piaciuto questa macchina m4 ma poi proviamo finalmente proviamo proviamo capito iscrivervi al canale youtube mettere like condividere tutto quanto ormai sbagliato non sono fatto per queste cose sai quante volte faccio i video e mi impappino sulle parole perché magari me ne compaiono due simultanea in testa e è un problema lo scarico sportivo completo poi c'è lo slip on in titanio ma perché non so sia caso oltre allo scarico completo della c'è un ottagono hai visto? c'è un ottagono non lo sa neanche loro secondo me infatti allora torniamo a serie un attimo sistemati la cintura qua cos'è? sentitelo sulla spalla cosi? si si ok sarà della centrale centrale tanta roba finchia di brutti siamo proprio poveri cazzo se no non sarei qui a fare i video che non è il mio lavoro sarei a fare il mio lavoro che non è fare i video che non è fare i video vabbè ok ragazzi 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 ok ragazzi capito? capito ragazzi eh? perché ragazzi che vuol dire? direi che siamo lo che manca ciò permettermi di fare la mappa il primo spero di tanti del questa è una prova per vedere se sono a fuoco oppure no grazie a tutti grazie a tutti